Traffico a rilento, ma più per i curiosi, intenti a guardare e scattare foto col cellulare che per l'ostruzione creata in strada dal camion che si è rovesciato fuori dalla carreggiata lungo la via di Sant'Alessio. L'autocarro, che trasportava carta e viaggiava sulla strada provinciale in direzione Ponte San Pietro, è finito fuori strada all'altezza del Barledi e si è ribaltato, finendo peraltro in un pantano causato dalle piogge che hanno colpito la provincia. L'autista e il suo collega nell'abitacolo, due uomini con accento est-europeo, sono fortunatamente illesi e sono usciti dal mezzo usando una scala. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e gli accertamenti del caso.